Un evento per celebrare la memoria, per omaggiare la vita e la storia di chi ha combattuto nella battaglia delle Melette nel 1916, ma anche un momento per lanciare un messaggio di pace. Sabato, Asiago e Fozza vivranno una giornata di grandi emozioni con la deposizione dei fiori al Sacrario Militare, una tavola rotonda al Museo Etnografico di Fozza e una visita nel pomeriggio al cimitero bosniaco di Malgaslapeur. È un evento di pace e di questi tempi abbiamo bisogno di parlare di pace. Un po' di anni fa un gruppo di giovani, i nostri giovani di Fozza, hanno voluto rendere omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, caduti italiani e caduti dell'Austria Ungheria. Da noi c'è stata la battaglia, la famosa battaglia delle Melette, la prima battaglia del 1916, nella quale ha perso la vita un intero battaglione di soldati bosniaci, di giovani soldati mandati allo sbaraglio. Ebbene i nostri giovani di Fozza hanno voluto onorare la loro memoria ripristinando l'antico cimitero. Sono 25 anni che i volontari si occupano di curare e presidiare il cimitero bosniaco, un impegno che nasce dal rispetto per i defunti e per la storia. Questo fatto ovviamente ha colpito molto i rappresentanti bosniaci e austriaci che ogni tanto vengono a vedere i luoghi dove hanno combattuto i loro giovani.